Dei nostri nonni vogliamo parlare, in modo in cui voi possiate affrezzare. Sono gente, molto spettosi, non in occasione, generosi forse civizia, è la verità, ma lo fanno per noi. Loro grandi, noi vicini, loro nonni, noi papi, noi stiamo bene insieme perché ci vogliamo tanto bene. Grazie, 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 perché restate senza accanto a me. Grazie, 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 perché affetto il più grande insegnante. Credo che adesso abbiamo ringraziato proprio tutti i genitori, amici, insegnanti e nomi. In effetti, scusate se te prego di nuovo, ma qui c'è una grande dimenticanza. E cioè? Non abbiamo tutto conto di una persona molto importante nella nostra vita. Di chi stai parlando? Alessia, non te ne ci sono le spine. Dobbiamo ancora ringraziare Dio. Ma c'è altre ragioni, senza di cui non ci sarebbe nessuno di noi. Non ci sarebbe il mondo. Ci sarebbero gli animali, le piante, tutto ciò che ci sconda. Bisogna assolutamente organizzare qualcosa. Grazie per la vita che ci hai dato. Grazie a nostro Dio per il creato. Noi ti diciamo grazie per davvero, per ogni uomo, la terra e il cielo. Se ti guardi intorno, te ne accorgerai quante cose grandi che tu hai. Un mondo di colori che vive con te il mondo più fantastico che c'è. Quando la mattina avviò il cuore, dovete guardare la tua storia. E se vedrai un fiore, allora avvenzerai alcune cose belle che tu hai. Vivi nel creato, con i tuoi fratelli, insieme a tutti questi due livelli. Se ti guardi intorno, te ne accorgerai quante cose belle che tu hai. Se ti diciamo grazie per davvero, per ogni uomo, la terra e il cielo. A questo punto direi che stiamo quasi alla fine della prova generale. Eccoci qua, mi ha già sempre visto la scuola e finita che ci ha visto. E per finire, ci sarebbe il rinfresco. Ah bene, la parte che mi piace di film. Io credo che potremo fare a meno anche il rinfresco. Che stai dicendo? Lorenzo si è mangiato tutto. Oh, Lorenzo, come hai fatto? Ehi, sono un mago, no? Cosa sono riuscito a farlo fare? Zitti tutti, io continuo a sentirmi osservata. In verità, anch'io ho questa sensazione. Anch'io. Accidenti, sono già tutti qui. Signori e signori, benvenuti. E c'era, c'era. La presentante dice, voleva dire che siamo felici di avervi qui al nostro progetto, insieme è bello. Erano anni che non si riusciva a recitare tutti insieme. Dei piccoli alunni di prima ai ragazzi di quinta. E stanno per lasciare, se lo augurano, la scuola primaria. Siamo felici di avervi con noi alla nostra festa. Perché così abbiamo la possibilità di dire a tutti il nostro grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un bel giorno il mondo capì perché non poteva andare avanti così. Chiamò la forza a tutti i dottori per far passare quei forti dolori che vengono fuori dal cuore che le persone in cerca d'amore. Tutto il mondo doveva sbagliare che c'era qualcosa che fu l'incanziale. Tutto così che da parì e peggiavo per pensare che dalla manica più su si diceva un'altra manica più sull'incanziale. E dalla manica più sull'incanziale. E dalla manica più sull'incanziale. la soluzione più chiara sembrò. La soluzione più chiara sembrò. e dalla manica più sull'incanziale. E dalla manica più sull'incanziale. da l'Aspagna e da l'Aspagna. e dalla manica più sull'incanziale. Grazie!